Un gol di Fabio Venniro permette a Licata di sbancare il campo del Marina di Ragusa e tenere la scia della Capolista Nissa. Vittoria fondamentale per i gialloblu che venivano dall'eliminazione dalla Coppa per mano del Casteldaccio. Tre punti pesantissimi che permettono a Licata di continuare l'inseguimento alla testa della classifica. Licata costretto a giocare per un tempo e mezzo in dieci per effetto dell'espulsione di Fabrizio Grillo. Decisione del direttore di gara giudicata troppo fiscale dall'ambiente licatese. A fine gara, notevole soddisfazione per mister Mimmo Bellomo, quella di Ragusa è stata l'ennesima risposta del gruppo, le sue parole. Vorrei che il lavoro di questi splendidi ragazzi si apprezzasse di più. Anche oggi il mio gruppo ha dimostrato tutta la determinazione e l'impegno che io vedo quotidianamente durante la settimana. Espugnare Ragusa per di più dovendo giocare per un tempo e mezzo in inferiorità numerica non era per nulla semplice. Licata che fa l'amplena nelle trasferte ragusane contro Ragusa, New Team e Marina sono arrivate altrettante vittorie che hanno portato con loro la bellezza di 9 punti. In terza categoria sconfitta onorevole per l'Atletico Licata superato il Dino Liotta dalla capolista River Platani col punteggio finale di 2-1. Gli uomini di Gaetano Profumo erano riusciti a portarsi sull'1-0 salvo poi non riuscire a proteggere il vantaggio. Nel basket tutto secondo copione al palafragapane, la studentesca Licata supera agevolmente un basket giarre che ha potuto opporre poca resistenza ai padroni di casa. Gara ampiamente orientata già all'intervallo lungo con gli uomini di cui accetto le castorine in grado di rientrare negli spogliatoi sul rassicurante vantaggio di 23 lunghezze. Poca storia anche nella seconda parte di gara con la studentesca che controlla agevolmente e porta a casa una preziosa vittoria.